Siamo agli sgoccioli, il mese di maggio deve essere il mese dove i programmi futuri, anche perché settembre alle porte, settembre ci aspettiamo l'avvio delle prime vetture elettriche, ma nel contempo dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre corde. Mettere al riparo l'intero settore dell'automotive attraverso un piano condiviso con sindacati, istituzioni e stellantis. Questa è la richiesta che arriva dal Consiglio regionale della Wilm Basilicata, tenutosi a potenza nel parco del seminario. È necessario salvaguardare gli oltre 10.000 lavoratori di San Nicola di Melfi e attraverso un confronto concreto ed immediato con istituzioni e imprese trasformare il passaggio all'elettrico in un'opportunità per tutti, perché la Basilicata, come ha dichiarato il segretario regionale della Wilm, nel suo piccolo rappresenta la fotografia nel bene e nel male del prossimo futuro. Attualmente San Nicola di Melfi è sui 10.000 lavoratori, però evidentemente questi 10.000 lavoratori noi abbiamo sempre detto, senza ipocrisia, che il passaggio all'elettrico è un passaggio che deve essere un'opportunità. Attualmente quei 10.000 lavoratori possono cogliere le nuove opportunità dell'elettrico, ma dobbiamo fare presto, perché purtroppo il tempo sta scadendo. Durante l'incontro sono state anche illustrate le iniziative delle prossime settimane legate al 1 maggio, le cui manifestazioni si svolgeranno a potenza alla presenza dei segretari nazionali di CGL, CISL e Wil.